Per Lega2Basket.it e DailyBasket.it Giancarlo Ferrero È stata sicuramente una marina importante, veniamo dalla sconfitta che ci bruciava volevamo subito rifarci davanti al nostro pubblico, c'era tanta gente, volevamo far bene Fiorentino è una squadra forte, completa, però siamo riusciti a portarla a casa non è stato facile, è stata una partita sempre punto a punto poi alla fine siamo riusciti a dare l'ultimo spunto e l'abbiamo vinto bene